Una sbandata sulla sinistra e dopo alcuni metri lo schianto contro un platano. È morto sul colpo ieri notte verso le 4 un 28enne romeno residente ad Agugliaro nel Vicentino. L'incidente è stato causato quasi di certo dall'alta velocità con la quale il giovane stava guidando la sua Alfa Romeo Giulia lungo via Marconi, la provinciale 89, in direzione di Este. La sbandata prima e la deviazione sul bordo strada in erba poi devono aver reso incontrollabile la vettura che dopo l'impatto contro l'albero si è rovesciata sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il personale sanitario del 118 che a causa delle lesioni mortali riportate dal 28enne non ha potuto fare altro che accertarne il decesso sul posto.